Ci tenevo innanzitutto a ringraziare il collega Angelo Scalia, precedente presidente della quarta commissione, per il lavoro svolto fino a qualche giorno fa. Ringrazio anche tutti i colleghi della quarta commissione per avermi dato la loro fiducia. Già abbiamo iniziato a lavorare. La quarta commissione è generalmente conosciuta come commissione bilancio, manovra tra le proprie competenze anche il patrimonio. Infatti nei giorni scorsi abbiamo iniziato il primo giro, la prima visita conoscitiva a Palazzo Moncada, un palazzo bellissimo che però va valorizzato. Abbiamo già redatto la relazione che poi nei prossimi giorni dovrà essere discussa in Consiglio Comunale. Abbiamo tra le nostre competenze anche le risorse, lo sviluppo economico, anche l'organizzazione personale. Questa mattina abbiamo avuto in audizione il sindaco con l'assessore Dierna. Insomma stiamo dando una svolta in modo tale che anche il Consiglio Comunale, in particolare la quarta commissione, possa dare un contributo all'amministrazione con la speranza che questa ascolti i consiglieri comunali. Nello specifico andremo a visitare tutti gli immobili del Comune. Noi abbiamo tante realtà, tanti immobili, tanti stabili del Comune che ad oggi o vengono lasciati chiusi oppure non vengono sfruttati. Bisogna valorizzarli al massimo affinché da un mero costo come qualche immobile lui adesso diventi una seria opportunità di sviluppo economico e di introito per le casse del Comune. Oltre alla parte ancora tutta da ristrutturale che è molto ampia, siamo rimasti stupiti anche dal terrazzo posto all'ultimo piano di Palazzo Moncada, molto suggestivo dal quale si può ammirare tutto il centro storico di Caltanissetta, gran parte della città però inagibile. Infatti c'è da capire come mai l'amministrazione comunale non sia stata capace di intercettare dei finanziamenti esterni per poter ristrutturare l'ala ancora rimasta in disuso, abbandonata, ma anche il terrazzo perché potendolo convertire, rendendolo agibile potrebbe essere molto appetibile anche per i privati così come avviene in molte città dove si sfruttano i terrazzi per ammirare appunto il centro storico in questo caso. Con la Commissione quindi proseguiremo il nostro giro per la città alla scoperta o alla visita più che altro di tutti gli immobili per capire come vengono gestiti attualmente dall'amministrazione comunale. Palazzo Moncada abbiamo preso atto che vi è un'ala grandissima al primo piano per capirci dove c'è ad oggi la mostra degli abiti antichi d'epoca che è completamente da ristrutturare, vuota, inutilizzata, anzi piena di colombe perché c'è una finestra aperta che faremo chiudere già l'abbiamo scritto nella relazione. Un'ala che andrebbe ristrutturata per poi o affidarla a qualcuno tramite il partenariato pubblico privato o tramite una gestione diretta, insomma rispetto al passato ci vuole una rottura e una discondignità perché in realtà bellissime un palazzo storico come Palazzo Moncada non può essere sfruttato così poco rispetto invece a quanto potrebbe effettivamente produrre perché si trova tra l'altro in pieno centro storico e quindi sarebbe un valore aggiunto per tutto il centro storico.